Sì, perché dove non si va si pensa che sia sempre un'isola felice, che non c'è nulla. Nelle realtà dal 2015 noi stiamo lavorando su questi piccoli paesi, come diceva il colonnello Cerniera, tra la provincia di Catanzaro e di Crotone, nelle realtà abbiamo visto un'effervescenza sul piano mafioso in questi comuni. Quindi intanto iniziando a parlare ci sono stati diversi omicidi in questo territorio, uno dei quali lo abbiamo scoperto nel 2015, del macellaio rosso avvenuto nell'aprile del 2015, da lì l'aspirante collaboratore di giustizia Monti, che poi si è pentito di essersi pentito grazie al lavoro ai fianchi fattogli dalla moglie, Comunque partendo da lì siamo riusciti a ricostruire, secondo l'imputazione ovviamente, ricostruire un'associazione di inquista mafioso, un'associazione di inquista trafiche stupefacenti, portando quindi questa notte l'arresto di 52 presunti innocenti, arrestati anche in Piemonte, Lombardia, in Umbria, perché questi soggetti arrestati lì stanotte erano proiezioni di queste organizzazioni criminali nel nord Italia. Sì, anche in questo caso noi abbiamo visto come nel Comune di Cervia abbiamo fatto delle imputazioni, delle contestazioni anche per voto di scambio e anche quindi come nella infiltrazione in modo significativo dell'andrangheta in questa pubblica amministrazione. Si tratta di una organizzazione criminale, quella oggetto della ordinanza cautelare messa oggi, che è radicata nell'entroterra del versante ionico tra la provincia di Catanzaro e la provincia di Crotone, in particolare nei comuni di Petrona e di Cerva, che ha avuto nel corso degli anni un'influenza criminale da parte di altre organizzazioni criminali, sia radicate sulla provincia di Catanzaro che radicate nella provincia di Crotone. Si tratta di organizzazioni criminali che sono state oggetto di misure cautelari nel corso del tempo e anche di processi con sentenze passate ingiudicate, che in particolare hanno riguardato le aree di Cutro, di Isola Capolizzuto, delle frazioni di Cutro, delle frazioni marine di Cutro, che ovviamente avevano un'influenza criminale su queste aree interne. Peraltro aree interne che nel corso degli anni sono state caratterizzate da varie vicende delittuose, che hanno interessato esponenti che gravitavano in queste dinamiche delinquenziali, che pure avevano delle alleanze con altre organizzazioni criminali. Così come hanno interessato soggetti provenienti da questa stessa area territoriale, ma che si erano stanziati in altre regioni d'Italia. In particolare in Toscana ci sono state delle vicende omicidiari che hanno interessato soggetti provenienti da queste aree. In quest'area era radicata e si è radicata nel tempo questa organizzazione criminale, riuscendo oltre che a esercitare quel controllo asfissiante sul territorio di carattere predatorio, con le estorsioni nei confronti delle attività commerciali, anche a realizzare quella contaminazione tra gli esponenti della criminalità organizzata e gli ambiti istituzionali locali. In questo caso è stata registrata a livello indiziario, naturalmente, con l'adozione della misura cautelare anche per il reato di scambio elettorale politico mafioso, l'infiltrazione e il condizionamento da parte degli esponenti della criminalità organizzata delle elezioni comunali del Comune di Cerva del 2017. Questo si tratta di uno spaccato particolarmente inquietante che caratterizza l'agire notorio delle organizzazioni di tipo mafioso. Sì, in realtà il lavoro è stato un lavoro molto complicato perché si è trattato di ricostruire un figlio di Arianna, fare un'analisi di contesto su tutti gli episodi delittuosi che erano avvenuti. Qualcuno anche non denunciato, qualcosa è successo a metà ma non ancora chiara. L'intuizione investigativa dell'arma, sotto la stretta guida della procura di Catanzaro, ha consentito di ricostruire e mettere a sistema tutti questi episodi delittuosi e ricostruire questa storia criminale che ha interessato i comuni della presida catanzarese e quindi dar vita, comprovare l'esistenza, l'operatività di questa cosca.